La felicità di tornare qui come essere stato un teatro nuovo pochi mesi fa con il teatro che scotta, è la prima volta che recito all'interno del testo. Non vedo l'ora che i due, che a questo punto dopo una mesata di prove di lavoro con un teatro veramente straordinario, adesso abbiamo la necessità di incontrare il pubblico e di vedere se quello che abbiamo costruito fino ad oggi, inseguendo tutto quello che insieme e grazie all'Eubusca, l'abbiamo costruito, vedere se tutto questo è realmente contagioso così come ha assolutamente contagiato il resto. Vi aspettiamo i due, i tre, i quattro.